Ah, che meraviglia aver fatto una doccia dopo una passeggiata fuori. Perché? Perché mio padre fa sempre la spesa per me e me la porta. Questa volta gli ho detto, papi vengo io domani, ossia oggi, e vengo a prenderla. Allora, prima di tutto mi sono sentita come... vabbè, l'aria fresca straordinaria. Ma poi mi sono sentita in un videogames, quello del Pac-Man. Allora, io andavo a destra, quello girava a sinistra, poi è per schivarsi tutti. Tac, destra, sinistra, il Pac-Man. Arrivo a casa di mia mamma e mi fa trovare questi. Ossia, oggi, finalmente, dopo 28 giorni, non mangio tonno in scatola, fagiolini in scatola, piselli in scatola, tutto in scatola. Oggi, anche se sono le 5, 10, le 6 di sera, mangio adesso, ceno e mi sparo questo. Felice, felice, felicissimo. Finalmente un po' di sapore. Allora, allora, il caos, 12, oh! Oh! Voglio più ruore del pubblico! Film Sima, sto 24 anni, e faccio Miss Italia! e sono dei gay pride un bel applausi bene 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 e i due che la natura ha chiamato io ore e ore davanti a un pc davanti alla televisione davanti al cellulare davanti a un libro praticamente la vista da quando sono in quarantena ormai non è più non va così si stringe così quindi ogni volta che devo girare la testa e capire aspetta cosa c'è intorno mi gira la testa è come se avessi bevuto dico ma è possibile che noi ci alleniamo così tanto mi sto allenando così tanto a tenere gli occhi vicini che guarda io non vedo l'ora di poter uscire e farmi una passeggiata sapete per qual è la colpa? che non ho un cane ma nel senso non ce l'ho proprio il cane non ce l'ho e quindi non posso uscire saremo in antesa di questa fine della quarantena grazie a tutti grazie a tutti